La combinazione di cabotegravi e ripivirina è ora disponibile anche per il paziente italiano, grazie all'inserimento in gazzetta ufficiale qualche settimana fa. Ne parliamo con il professor Giuliano Rizzardini, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'ospedale Fatebene Fratelli Luigi Sacco di Milano, in occasione del congresso ICAR 2022. Professore Rizzardini, per quale tipologia di pazienti è approvato cabotegravi e ripivirina che è stato inserito nella gazzetta ufficiale? Si tratta di due farmaci che appartengono a classi inibitori integrasi e NNRTI che noi conosciamo già bene per averle utilizzate nei pazienti HIV, quindi con un'efficacia comprovata, che però hanno una modalità di somministrazione diversa, parenterale e soprattutto hanno un'emività lunga, quindi permettono la somministrazione ogni due mesi, come è stato appunto registrato. Quali sono i pazienti? L'indicazione del foglietto illustrativo è quelli che sono in soppressione virale. Poi chiaramente bisogna identificare quelli che possono ottenere più beneficio rispetto agli altri, perché almeno inizialmente è un farmaco che non potrà essere proposto a tutti, soprattutto per motivi organizzativi. Cosa ci dice su questo farmaco? Quale feedback deriva dalla sua pratica clinica? Allora, noi abbiamo trattato circa un'ottantina di pazienti nelle diverse fasi di sperimentazioni. tutti questi pazienti stanno continuando per correttezza a prendere questo farmaco. Di un'ottantina di pazienti solo uno ha preferito tornare alla terapia orale, quindi è un farmaco ben tollerato, a parte qualche piccolo fastidio nella sede in iniezione, ma che si risolve immediatamente e soprattutto dà una libertà di non dover pensare tutti i giorni ad assumere il farmaco, dà alcuni la possibilità di non far vedere che stanno prendendo il farmaco, dà la possibilità di muoversi per chi lavora in maniera più ageva, per cui ripeto, tutti quelli che l'hanno preso, a parte uno, nessuno è tornato indietro. Quindi è un'opportunità estremamente interessante, diciamo che apre la strada quello che sarà il futuro della terapia interretrovirale, che sarà fondamentalmente basata su farmaci a lunga durata d'azione. Forse anche una questione psicologica, perché il paziente non si sente più malato non dovendo prendere tutti i giorni la compressa. Sì, questo è appunto un aspetto estremamente importante. Tu fai l'iniezione ogni due mesi, però altri 59 giorni non ci pensi più. Tutte le mattine quando devi alzarti a prendere anche la singola pillola, un richiamo a quella che è la tua problematica. Detto questo, molti dei pazienti riescono a tollerare bene anche tutta la terapia antiverale classica, però ripeto, stiamo andando avanti e questa è l'apertura di una nuova fase di possibilità per i nostri pazienti.